...di Zavrnok colpito perfettamente Bo si, il ragazzo è molto palato Bruno con T-Nornout, palleggia per Ervingapette la palla arretrata, il francese la mette giù con un grande attacco facendo un gesto atletico di potenza e precisione 24-17, tanti set point per Modell Benissimo, però Botto è rimasto ancora lì a protestare sul palleggio lo rivediamo Senza muro, che cosa si fa? Sicuramente nell'angolo, però bisogna essere molto attivi e proprio accettivamente pronti